Lo sportello del cittadino intende dare spazio all'iniziativa davvero interessante e pregevole, lo sportello Universo Donna, una delle tante attività poste in essere dall'Associazione Stella Maris. Ne parliamo con Gianna Cavallo, la quale è la responsabile del settore pari opportunità nonché attività sociali dell'Associazione in Oggetto. Ci presenti un po' l'attività, ci presenti questa associazione. Un saluto a tutti i telespettatori. Grazie a Luigi Abate di aver dato a noi l'opportunità di avere questo spazio all'interno dello sportello del cittadino per poter confrontarci con il pubblico. L'Associazione Stella Maris è un'associazione di promozione sociale e culturale. È nata ed è stata inaugurata l'8 marzo del 2010. 8 marzo è una giornata simbolo perché è la giornata mondiale dedicata alla donna. In quella giornata particolare si ricorda il sacrificio di 120 donne, mi pare, che hanno sacrificato la propria vita per rivendicare il loro diritto allo sciopero. Ma nel tempo è stata trasformata e quindi è la giornata che viene dedicata alla donna a 360 gradi. Una giornata di grande riflessione e proprio in quel momento abbiamo voluto alla presenza dell'oggi vicario del vescovo, donna Alessandro Greco, inaugurarla con una mostra di pittura dedicata alla donna, una collettiva dove hanno partecipato tutta una serie di artisti, tutte quante donne. Stella Maris. Stella Maris è intitolata alla Madonna della Stella Maris. Madonna della Stella Maris, protettrice dei pescatori del borgo antico. Le attività dell'Associazione sono tante. L'Associazione si occupa di promozione culturale e sociale su tutto il territorio, non soltanto nella città di Taranto, ma su tutto il territorio provinciale.